Sono Paola Nosella, sono la responsabile del servizio di terapia del dolore dell'ASFO con il presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento. Siamo un hub condiviso con Pordenone. Arduo compito di introdurvi l'argomento della neurostimolazione cordonale. Dopo tutto quello che è stato detto ieri in quella tavola rotonda lunghissima, dalle 2 alle 7, quando noi parliamo di dolore parliamo di impulso elettrico finché questo non arriva al cervello. Quindi che cos'è la neuromodulazione? La neuromodulazione non è altro che il trattamento di un impulso con un altro impulso che ha tra virgolette un compito inibitorio modulatorio. Quando si parla di stimolazione, di neurostimolazione, si parla di stimolazione convenzionale che nasce a fine degli anni 60, la cosiddetta tonica parestesica. La parestesia copre l'area del dolore del paziente e si parla anche di stimolazione oggigiorno non convenzionale dove la parestesia non copre l'area dolorosa del paziente per diversi meccanismi d'azione. La stimolazione non convenzionale si presenta come BART o alta frequenza. Fondamentalmente questa non è la sede per parlare di forme d'onda, però il concetto fondamentale con queste diverse modalità di stimolazione o meccanismi d'azione diversa che dopo vediamo, ma non percepiamo la parestesia. Innovazione futuristica, già si sta parlando, è la combinazione di forme d'onda non convenzionali. Ieri abbiamo parlato in lungo e largo delle vie del dolore, quindi fondamentalmente oggi non mi rimetto a spiegare questo. Ricordiamo l'importanza del fascicolo gracile cuneato e valutiamo la teoria del cancello espressa a fine degli anni 60, quindi nel 1965, che viene oggi prodotta tra virgolette in forma moderna come l'espressione dell'importanza delle comunicazioni fra i vari neurotrasmettitori data dalla liberazione degli interneuroni a livello delle lamine del midollo del corno dorsale. Ma fondamentalmente quando noi parliamo di stimolazione convenzionale tonica parliamo di un impulso che ha un meccanismo d'azione ortodromico e antiortodromico. Il primo agisce modulando, potenziando l'attivazione inibitoria del fascicolo gracile cuneato che vi ripeto e a livello antidromicamente attivando le fibre collaterali delle lamine basali del corno del midollo spinale. Quindi fondamentalmente questo è un meccanismo d'azione chiaro, la letteratura ne parla in largo e in lungo, non perché è il più efficace, solo perché è il più vecchio. Le nuove tecniche di neuromodulazione sono ancora in fase di studio ed evoluzione. Inoltre, per quanto concerne la stimolazione cordonale, dobbiamo dire che anche effetti organospecifici per il meccanismo d'azione, ad esempio una stimolazione cordonale a livello cervicale può dare broncodilatazione, vasodilatazione, un elettrodo posizionato a livello toracico dà una diminuzione degli spasmi colici. Infatti una delle indicazioni nel passato della stimolazione cordonale era stata anche il dolore pelvico e la malattia cronica infiammatoria intestinale. Ma le basi fondamentali come agiscono a livello della stimolazione convenzionale, noi possiamo vedere come ci sia un'azione sui neurotrasmettitori, sulle sinapsi, sui wide dynamic range, sulle cellule gliali, a differenza della stimolazione ad alta frequenza e della BARS. Adesso io in maniera riassuntiva e magari poco precisa cerco di spiegarvi il tutto perché questa non è la sede per questa spiegazione. Nella stimolazione cordonale noi vediamo che nel concetto di dolore cronico in rosso vediamo tutti i neurotrasmettitori che aumentano, diminuiscono e sono causa della cronicizzazione del dolore. E come in azzurro vediamo l'effetto dell'impulso cordonale, della stimolazione cordonale, inibisce e riattiva, quindi copre, agisce come terapia. Fondamentalmente quando noi parliamo di neuromodulazione cordonale parliamo di una terapia dove tra virgolette il farmaco è la corrente, corrente che deve essere modulata. Il messaggio che non voglio che passi in questo contesto è quando non funziona questo, 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 la dottoressa Nosella mi ha detto che il farmaco qui è considerato una corrente l'utilizzo. No, la selezione del paziente in un impianto cordonale è importantissima. Questo perché quando tu posizioni uno stimolatore midollare esposi il paziente per il resto della tua vita. Di conseguenza qualsiasi problema è sempre il tuo problema. È facile fare la selezione del paziente? No, perché tutti i test che noi abbiamo a disposizione, tutta la multidisciplinarietà, tutte le cose di cui siamo a conoscenza, a volte pone indicazione all'impianto, impianti non ha il risultato. Io dico sempre, per capire se faccio una selezione corretta, a fine anno da ragioniere mi metto lì e dico ok, quanto ho impiantato, quanto ho espiantato. In base all'entità dell'espianto, che deve essere dipendentemente dal numero, ma possibilmente uguale a zero, riesce a capire se tutto quello che viene prima è corretto. Anche perché nel nostro lavoro, soprattutto dopo 20 anni che impianto, posso dire che tutti sono bravi, tutti siamo bravi, tutti siamo bravi a dare indicazioni agli altri, però credo che anche il collega giovane, se si pone il dubbio, quando tu gli invia un paziente, magari alle prime arbi, come l'hanno fatto con me, questo paziente è candidato all'impianto, io non riesco per motivi di tempo, gentilmente mi aiuti, me lo impianti, te lo dà il collega anziano, tu lo impianti, vi assicuro che quel paziente lo spiantate, vi assicuro al 100%, quindi anche il dubbio che voi avete, non dovete aver paura a confrontarvi con chi è più vecchio, perché noi non siamo i migliori in assoluto, anche noi dobbiamo porci in discussione, a volte magari il paziente che tu porti all'impianto, dopo anni che lo vedi, gli hai fatto di tutto e di più, magari ti fossilizzi su un'idea che non è corretta, questa è un'impressione secondo me importante da trasmettervi, perché non è un rapporto di sudditanza tra un vecchio e un giovane, è un rapporto di collaborazione, infatti il messaggio che Giuliano dà all'inizio è lavorare insieme per crescere insieme, non che voi dovete fare quello che il più grande vi dice, so che sono antipatica, però ci tenevo a dirvi questo. Per quanto concerne invece il meccanismo d'azione dell'alta frequenza, dobbiamo dire che questa deve inibire lo stimolo nocicettivo e agisce a livello dell'addrezza, sempre modulando la liberazione di questi neurotrasmettitori a livello della terza e della quarta lamina del midollo spinale. Per quanto concerne invece il meccanismo d'azione della stimolazione cordonale e della Bars, vediamo come il meccanismo inibitorio sia a livello tonico GABA dipendente, mentre a livello Bars non interagisce con i recettori GABA, quindi uno agisce sulla via a livello tonico neospinotalamica a livello della Bars paliospilotalamica, quindi anche l'emotività sull'area emotiva del dolore. Indicazioni e controindicazioni, fondamentalmente le indicazioni per l'impianto della stimolazione midollare sono sempre le classiche, il dolore cronico lombare, le sindrome regionali complesse, il dolore neuropatico, il dolore ischemico. Queste sono grandi categorie, delle macro categorie in cui vengono indicate gli impianti cordonali. Poi dopo io qui ho cercato di riassumervi in maniera più specifica le indicazioni ad elevata risposta, buone risposte, a bassa risposta, facendo un po' un riassunto di tutto ciò che dice la letteratura. Importante per quanto concerne le indicazioni all'impianto durante la visita è anche sapere la terapia del paziente. Fondamentalmente oggigiorno noi combattiamo con tutti questi anticoagulanti, con questi nao, con queste cose. Fa meno paura quando il paziente viene considerato tra virgolette psichiatrico, anche perché a volte la condivisione della stimolazione viene fatta direttamente con lo psichiatra e il trattare il paziente con modalità elettriche più tra virgolette vantaggioso rispetto a un monitoraggio terapeutico. Quindi questo è molto importante. Arriviamo alla tecnica di impianto. Quindi io ho deciso che il paziente lo candido all'impianto, ho deciso che tipo di stimolazione voglio per lui, ho deciso cosa faccio quel giorno, ad esempio nel nostro centro il paziente viene ricoverato la mattina dell'intervento, ha fatto il pre-ricovero qualche giorno prima, adesso dobbiamo fargli il tampone e tutto, e arriva in sala operatoria e viene ricoverato per due notti nel posto operatorio. Questa tecnica di impianto, un po' la tecnica di impianto mio, quindi siamo in sala operatoria, paziente prono, apparecchio radiologico, approccio mediano dello spazio peridurale, mandrino liquido, reperisco lo spazio di interesse, qui devo valutare fondamentalmente dolore, corrispondenza e dove devo arrivare con la punta dell'elettrocatteta. Io quando sono in sala non devo avere il dubbio, provo, vedo, metto l'elettrodo e vedo dove stimola. Concettualmente tu devi avere ben chiaro dove parti, dove vuoi arrivare e cosa ti aspetti. Certo, nella stimolazione tonica la classica risposta al formicolio le copre la zona del suo dolore ti aiuta moltissimo e per chi deve fondamentalmente imparare, credo sia la tecnica più, quella che ti crea più maneggevolezza, che ti dia più sicurezza per poi proseguire con tutte le altre metodiche. L'introduzione dell'elettrodo sempre sotto scopia, il posizionamento corretto e la stimolazione. Allora, ago, mi raccomando, posizione paramediana, 45 gradi, mandrino liquido, reperisco lo spazio peridurale, introduco l'elettrocattetere, sempre sotto guida fluoroscopica, arrivo con la punta dove concettualmente devo arrivare, vista la storia del paziente, e inizio le prove di stimolazione con il tecnico, con l'ingegnere tecolo specialist di sala. Posizionato correttamente l'elettrodo, controllo radiologico. Nella stimolazione classica, convenzionale, ci sono due tempi. Il primo tempo del trial, dove per un paio di settimane valuto l'efficacia della stimolazione, quindi quell'elettrodo deve essere fissato a un'estensione che successivamente viene tunnelizzata e portata esternamente per essere collegata a un device esterno. Quindi questo è l'esempio di un'estensione, questa qui, e questo per farvi vedere. Qui, dove c'è stato l'approccio? Chiuso tutto quanto. L'elettrodo è collegato all'estensione, in quella che sarà la tasca dove viene posizionato in un secondo tempo il device. Da qui l'estensione esce e qui viene collegato esternamente lo stimolatore esterno per il periodo trial. Quanti elettrodi? Come elettrodi? Fondamentalmente, nella mia esperienza, un elettrodo, dipendentemente dalla schiena, posizionato correttamente in regione mediana, mi copre parte del dolore a livello lombare e tutti e due gli arti inferiori. Talvolta per conformazione anatomica del racchide o per anche posizione dello spazio peridurale, superficie dello spazio peridurale, c'è la necessità di posizionare direttamente due elettrodi e lì la scelta a volte viene fatta direttamente anche in sala. Non è che tutto sia certo, non ci sono sempre certezze nell'ambito della stimolazione cordonale in sala, almeno a mio avviso. Dopo il periodo di prova che va dalle due alle tre settimane nella mia esperienza, quindi con una riduzione del dolore pari o superiore al 50% come primo item e come secondo modificazioni delle attività quotidiane del paziente. Importante la sua quotidianità, cosa è cambiato rispetto a prima dell'impianto, quanto riposa rispetto a prima dell'impianto, quanto è ridotto il dolore rispetto a prima dell'impianto. Consideriamo che la maggior parte dei pazienti a volte hanno una terapia farmacologica importante e non è che tu riesca in due o tre settimane a ridurla totalmente perché la stimolazione cordonale gli copre il dolore. Quindi insomma bisogna valutare pian pianino, ricordiamoci che la neurostimolazione è una terapia e la corrente è un farmaco, quindi le due cose devono intersecarsi. Impianto definitivo e successivamente il paziente l'hai sposato per tutta la vita. Noi facciamo poi controlli delle medicazioni nel nostro centro, le infermiere, abbiamo un team di infermiere dedicate, quindi il paziente non viene rinviato a domicilio, se è più un paziente che viene da lontano, lui preferisce farle col medico di famiglia, se no le medicazioni le controlliamo noi, poi abbiamo i controlli a uno, a tre, a sei mesi, un anno e poi annualmente o quando il paziente necessita, secondo lui, direi di meno un dubbio, qualcosa è cambiato a livello proprio della sensazione della stimolazione. Fondamentalmente noi ci occupiamo di stimolazione di pazienti stabilizzati perché abbiamo un centro di neurochirurgia nella nostra regione di riferimento che ci invia i pazienti dopo gli impianti, quindi dopo le stabilizzazioni e le fissazioni noi lavoriamo fondamentalmente su questo tipo di pazienti. Non è facile, però queste sono tutte immagini, quindi posizionamento di elettrodo, arrivo dall'elettrodo, non è sempre facile, non sempre riesce, a volte succede che non si riesce a passare con un elettrodo, io non mi vergogno a dirlo che quando provo e non va ho il coraggio di alzare la cornetta e chiamo qualche collega più esperto di qualche regione vicina e gli dico guarda io non ci sono riuscita, è inutile che mi incaponisca, non lo rifaccio venire in sala per la seconda volta, te lo invio e a volte può succedere che il collega ci riesce, però poi il paziente me lo riprendo e me lo seguo per il resto della sua vita. Allora queste sono tutte immagini radiologiche di posizionamenti, vari tipi di elettrodi, varie cose, qua vediamo l'elettrodo con 16 poli in linea, gli elettrodi hanno dai 4 agli 8 ai 16 poli, quindi i poli sono fondamentalmente le fonti energetiche di modulazione, lì la richiesta dell'elettrodo, il tipo di device viene fatta in base alle necessità del paziente. Complicanze, complicanze sono le infezioni e gli sposizionamenti le cose più importanti, ripeto è importante capire quando tu posizioni l'elettrodo nello spazio periodurale posteriore e anteriore, quindi fondamentalmente l'elettrodo per stimolazione non ti dà e di conseguenza questa può essere una complicanza importante. Stimolazione adattativa, quindi tu hai la possibilità oggi con device in commercio di modulare in funzione del cambiamento di posizione del paziente la stimolazione, quindi lui si è esteso a un tipo di stimolazione, quando si mette in piedi c'è il ribilanciamento e viene modulata la stessa e anche in posizione laterale. Tra le varie modalità di stimolazione a cui finisco, assume sempre più importanza per la specificità del target, la stimolazione del ganglio spinale, infatti in questa immagine molto chiaro ho voluto farvi vedere come un dolore tipico del piede può essere trattato con la classica stimolazione convenzionale che però ti copre tutto ciò, mentre con la stimolazione gangliare ti copre solamente il piede. Piccolo altro concetto, mi raccomando, quando si parla di stimolatori compatibili deve essere importante la differenza tra il safe e il conditional perché è importante per il radiologo che deve fare la risonanza, quindi safe con materiale idonee e conditional quando è garantita entro alcuni limiti di applicazione. Grazie. 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 Grazie a tutti.